La verità è che dove ci sono risorse, dove ci sono attività è ovvio che anche i delinquenti arrivano. Noi abbiamo delle denunce dalla Banca d'Italia che ci dice che ci sono almeno 400 denunce di infiltrazioni particolari di capitali societari, non sono inquadrate come attività mafiose. Abbiamo alcune inchieste in corso, la verità è che è da considerarsi fisiologico questo, ma proprio per questo motivo vanno combattute il fisiologico e definire che qualcuno guarda sempre con attenzione le nostre attività. Ma noi ci stiamo veramente impegnando affinché comunque non ci sia nessuno che chieda il pizzo piuttosto che entri nel capital.